In questo video andrò a provare Erika, un gioco o meglio un film interattivo per PlayStation 4 uscito nel 2019 che è possibile giocare o tramite controller o tramite app installata sullo smartphone Io al momento lo sto giocando con il controller quindi sarà un po' più scomodo perché è fatto più per app che per controller Come detto è un film interattivo quindi recitato da attori reali e non riproposto in 3D Magari in futuro farò un altro video se vi interessa utilizzando l'app perché devo dire che col controller è abbastanza scomodo Al momento non parla, vediamo se parlerà Erika Non dovresti giocarci, è pericoloso Non ho visto con cosa stava giocando Ok, sei pronta? Mamma e io ci incontrammo tanti anni fa in un posto chiamato Delphi House Era un'infermiere e io un dottore Devo tirare la foto Ok, quindi questa è la madre Ok, ho messo in pausa per mettere i sottotitoli Questo sarà... Ah, mi è comparsa l'icona del controllo per avvisarmi Guarda che devi sprigarti Ok, ho mandato le foto Dai Credo che anche tu sia magica Ma dovrai provarla Dai Che prova ci devo dare? Quella che preferisci Dai, prendiamo questa Che devo fare? Potere dell'antica sacerdotessa Vieni a me Ah, devo trovare la foto quindi Cerca di indovinare dov'è la tua preferita Non ne ho idea Andiamo... Dai, qui sta No Giustamente Sbagliato Ah, che disastro Niente potere della sacerdotessa Sei ancora magica? Sarà sempre con te Ricordatelo Anche se non è qui È sempre parte di te Se potessi guardare dal fuoco E vedere il futuro Cosa credi che vedresti? Ma ha sbagliato in dovina la foto? Figurati se vede il futuro nel fuoco Questo è il futuro? Bel futuro Non credo che a lui piaccia questo futuro Devo Devo... Devo aprire qui Ecco Qui è un po' scomodo Ok C'è questa entrata con coltello e pistola Non gli basta un'arma C'è nel dubbio Una delle due Ma è una donna? Ma è la madre? Ok Qui Dovrebbe essere cresciuta Quindi probabilmente quello è un ricordo del passato Si Comunque assolutamente va riprovato con l'app Per vedere se funziona meglio Perché tramite controller Devo dire che Non è proprio comodissimo Avrei Detto il contrario Cioè pensavo che col controller Sarebbe stato meglio Ma No È tutta colpa tua Cioè affronta Che affronta se stessa Cioè se dà la colpa da sola Vabbè Vabbè Disegni allegri Tutte mani Disegna mani Apriamo Chi è? Ciao Ma vuoi aprire no? Chiudi Sicuro Chiudi Chiudi Ah apri comunque Beh proviamo ad aiutarla Che aiuto è? Cioè Stai bene? Ciao A posto Vabbè Ah si è tenuta la foto Che aveva scelto Della madre Non so se Se avessi scelto Un'altra foto Forse ci sarebbe stata Un'altra foto Lì Non lo so Ok Scopriamo le pagine No Devo disegnare io Vabbè Posso disegnare Cioè è semplice Basta fare delle linee Su e giù Ok Allora devo dire Al momento la trama Sembra abbastanza interessante Anche se Ovviamente non c'è ancora molto Giornale? No Fragile Agitalo Vedi se Se è qualcosa Che si rompe Devo aprire Dai Ecco Qui ad esempio È scomodissimo Dai No Vabbè C'è una mano Giustamente Lei disegna mani E le hanno regalato Una mano Ah con il simbolo Che aveva il padre Sul petto Tipo Perché non era Produe Sono il sergente Blake Ho l'incarico Di seguire il caso Posso vederlo? No Consegna o strappa? Dai Chi è? E sto che bel disegno Non voleva però L'hanno costretto Vediamo se Vediamo se c'è qualche collegamento Come se non l'avessi mai vista Quella foto se la sta guardando Ma scusa Hanno appena tagliato la mano a uno L'ha il posto più sicuro Che devo fare? Ah Che ha sempre quest'ombra L'hanno convinta Ad andare alla Delphi House Che cosa vuole? No Che cosa vuole? Non No 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 non so se l'hanno detto o me lo sono cioè se me lo sono dimenticato io non l'hanno detto ma non ho capito cosa sia la delphi house beh quindi lei da piccola c'era già stata e c'è ritornata adesso per proteggersi dal tagliamano ok tocca beh ecco dai dai non posso farlo più vabbè saranno fuori a fumare aspetti vado a vedere suona di nuovo il campanello suona ah non posso devo andarmi a vedere i quadri delphi house fondatori e staff ok si ma continuo a non capire cos'è questa delphi house credo che sia qualcosa di medico perché il padre era un medico la madre infermiera quindi dovrebbe essere qualcosa di tipo medico di tipo medico si ecco che so si ah posso scegliere o rispondo al telefono o vado a vedere quelle che correvano ma si tranquilli andiamo a vedere quelle che correvano tutte maschere di animali tipo quella quella ragazza di fronte alla porta sua va tipo non così o dritto vediamo qui dai vediamo qui dentro che c'è posso aprire non vedo chi è apriamo ah ok cerchi di calmarsi adesso re e stanno è emotivo Cristo santo rosa c'è gente che sta morendo gli hanno tagliato la mano oddio mi vede no no ok non sappiamo come sono entrati no no non c'è non c'è sto ah ma non beccato non ho niente nessuno ah pure lui ha quel simbolo che perdita di tempo vedo che ha trovato qualcuno sarei dovuto restare ah io ho trovato e lui no ho visto delle ragazze indossavano delle maschere e loro già controllerò forse è una specie di terapia voi chi siete? sergente Blake mi occupo delle indagini devo incontrare la dottoressa Ballard la prego di scusarci sarà lei la dottoressa Ballard si e chi non lo conosce l'ispettore capo? mi spiace incontrarla in circostanze tanto difficili cosa possiamo fare per farla sentire a suo agio? mmm non lo so va tutto bene sto a posto così tanto tagliano solo le mani qua andiamo ti faccio strada si immagino che non ti ricorderai di me io lavoravo con tuo padre mi occupavo di te quando eri piccolo conosceva i miei genitori oh certo tuo padre mi ha insegnato tutto quello che so e tua madre era incredibile un'infermiera brillante così intelligente e divertente comunque questa è la tua forse ah già già ce l'avevano pronta forse la riconoscerei quindi lei già ci stava in quella camera no comunque si la trama sta diventando interessante quindi ah quello che ho incontrato prima no penso che sia un gioco interessante sicuramente penso che andrò avanti per cercare di capire com'è non è sicuramente adatto a chi cerca l'azione ma è consigliato a chi cerca un gioco con una bella trama non è sicuramente adatto a chi